Abbiamo terminato proprio adesso una riunione con tutti i sindaci, si è avviato un percorso di attivazione dell'offerta sia territoriale che ospedaliera, parliamo subito dell'offerta ospedaliera, dal primo di ottobre sarà aperta e attivata l'Utic Partinico e questo è un grande risultato per dare una grande risposta ai cittadini del distretto di Partinico e non solo e dal primo di ottobre sarà anche funzionante la risonanza magnetica. La mia valutazione è positiva anche perché l'indomani del ferragosto il direttore generale è qua fondamentalmente per accogliere le richieste che vengono dalla gente, dalle famiglie e dalle comunità con quello che ha detto lui, le varie interventi che si stanno facendo sul territorio, si sta realmente attenzionando al territorio ciò che non veniva fatto in passato. Abbiamo chiesto altre tipologie di assistente sociosanitario, è stato promesso in sinergia con i comuni che verranno attivati, di questo siamo contenti e siamo felici che realmente il territorio diventa sede fondamentale dell'attività dell'ASPE 6.